Ciao, in questo video andrò invece a spiegare le 7 forme di guadagno che ci offre Organo Gold. Non andrò troppo nei dettagli di tutte le forme di guadagno, però il mio obiettivo è invece quello di dare piuttosto la visione di quello che è il potenziale e di come è stato creato il pieno di compensi di Organo Gold per aiutarci a guadagnare nel tempo e a crearci la nostra rendita grazie al consumo di questi prodotti. Vediamo come si parte in attività, io apro il mio sito web al costo di 68€ e acquisto la mia licenza di vendita di tutti questi prodotti in tutti i paesi in cui Organo Gold è presente. Il passo successivo è fare un primo ordine di prodotti per ovviamente avere un piccolo magazzino a casa nostra per iniziare a fare qualche assaggio e anche vendere qualche scatola a chi è interessato a provarlo subito. Deciderò quindi di scegliere uno dei pacchetti bronze, argento, oro che sono 9 scatole di prodotto, 26 oppure 74 scatole di prodotto. Quindi a seconda di quanto mi voglio mettere in gioco in questa attività e ovviamente in base anche alla mia disponibilità economica nell'anticipare l'ordine di prodotto, sceglierò con quanto caffè, con quanti prodotti iniziare la mia attività. Vediamo subito come si guadagna nelle forme di guadagno di Organo Gold. La prima si chiama vendita, ovviamente è molto semplice, io condivido il prodotto con le persone che lo vogliono provare e ovviamente saranno interessate ad acquistarlo e lo potranno avere da me. Quanto guadagno? Io guadagno tra gli 8 e i 10€ su ogni scatola che vendo. La successiva forma di guadagno si chiama avvio rapido. Come funziona? Io da solo non posso ovviamente creare un business gigantesco, ma posso aiutare altre persone ad aprire il loro micro franchising, ad aprire la loro attività e associarsi al progetto e questi nuovi incaricate le vendite che io porto direttamente in azienda faranno un primo ordine di prodotti. E sceglieranno quindi bronzo, argento, oro, una delle opzioni di partenza e io guadagnerò un piccolo bonus che si chiama avvio rapido o rimborso spese di 15€ sulla scelta del bronzo, 75€ sulla scelta dell'argento e 145€. Su un nuovo incaricato decide di partire con il pacco oro. Questo bonus è una tantum che ci viene riconosciuto dall'azienda perché abbiamo mosso ovviamente del fatturato, abbiamo mosso dei prodotti. Un piccolo rimborso per il tempo che abbiamo investito per aiutare nuovi incaricati a partire in attività. La terza forma di guadagno si chiama dual team. Eccola disegnata qui, è molto forte. Quindi come allargo io il mio business? Creo due squadre di persone. La squadra di destra e la squadra di sinistra. Ok? Quindi con due persone che io porto in attività ho già attivato la mia squadra. Cosa farò con queste due persone? Farò esattamente la stessa cosa che hanno fatto con me. Quindi vi faccio assaggiare i prodotti, vi faccio sentire i benefici di quello che è il nostro caffè e loro decideranno di partire in attività con noi. E loro potranno fare la stessa cosa, quindi allargare il loro business. Conosciamo persone in altre città oppure in altri paesi? Perché no? Organogold è aperta in oltre 30 paesi e possiamo quindi allargare la nostra squadra ovunque. E grazie al potere della duplicazione da due diventeremo quattro e poi otto, sedici, trentadue e così via. Cosa succede se trovo una terza persona che vuole fare l'attività? Deciderò in che squadra posizionarla e questa persona andrà ad occupare l'ultimo posto all'interno della mia rete, facendo anche guadagnare lui, 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 lui e infine ovviamente noi. Ok? Quindi questo sistema premia anche chi sa cogliere l'opportunità tempestivamente, ovviamente bloccando la sua posizione in squadra e tutti i futuri inserimenti da parte dello sponsor finiranno ovviamente anche nella squadra di questa persona. Quanto guadagno in questa forma di pagamento? Io guadagno tra il 5 e il 10%, quindi il 5% da una squadra e il 5% dall'altra se io sono bronzo, il 7,5% da una squadra e il 7,5% se sono argento e il 10% da una squadra e il 10% dall'altra se io sono oro. Di che cosa? Di tutti i primi ordini di prodotto all'interno della mia rete. Quindi mano a mano che grazie al potere della duplicazione la mia squadra cresce, io guadagno all'infinito senza limiti di profondità su tutti i primi ordini di prodotto, quindi su tutti i nuovi ingressi in squadra all'interno del mio network, all'interno della mia rete. Quindi tutti i primi ordini di prodotto bronzo, argento e oro, io avrò una commissione tra il 5 e il 10% su tutti gli ingressi all'interno della mia struttura. Ripeto, senza limiti di profondità, questo per dare la visione di quello che è il potenziale della duplicazione mentre cresce la mia squadra in tutti i paesi del mondo. Quindi conosciamo amici in altre città, in altri paesi, possiamo portarli in attività e loro faranno la stessa cosa con i loro amici. Ecco quindi che creo un network mondiale di consumatori di caffè. Ma come dicevo, questo bonus è molto forte, ma è basato sui primi ordini di prodotto. L'obiettivo è quello invece di creare una royalty, una rendita nel tempo, grazie a tante persone che usano il prodotto tutti i giorni per avere dei benefici e lo condividono con entusiasmo, che hanno anche tanti clienti, persone che vogliono usare questi prodotti per stare meglio. Ecco quindi che arriviamo alla quarta forma di guadagno, che è la vera e propria rendita. È qui che ci dobbiamo concentrare, perché io guadagno rapidamente ogni settimana, mano a mano che la mia squadra cresce, ma deve essere anche stabile. Quindi persone che entrano in attività perché veramente credono nel progetto e usano i prodotti. Tutte le forme di guadagno si sommano, quindi guadagno da tutte e sette le forme di guadagno contemporaneamente. Ecco quindi la quarta. Nella quarta forma di guadagno la mia squadra è visualizzata in questo modo. Ci sono io e le persone che ho portato direttamente in attività, quindi i miei figli, io li chiamo figli. Poi ci sono i miei nipoti, quindi le persone che hanno portato a loro volte i miei amici e poi i miei pronipoti, quindi le persone che sono state portate dalle mie seconde linee. Quindi le mie prime linee, le seconde linee e le terze linee. Quanto guadagno in questa forma di guadagno? Io guadagno il 5% su tutti i successivi riordini di prodotto, inizialmente all'interno dei miei primi tre livelli e poi mano a mano che avanzo col piano di carriera guadagno fino al nono livello, qualcosa di spaventoso. Inizialmente solamente sui primi tre. Quindi io vengo pagato il 5% dei royalty su tutti i riordini di caffè delle persone all'interno del mio network. La quinta forma di guadagno si chiama unilevel matching. Questa è molto forte. Io guadagno tra il 10 e il 20%, a seconda della mia posizione di carriera, guadagno tra il 10 e il 20% di che cosa? Dell'assegno mensile delle persone che ho portato direttamente in attività. Non è un bonus ovviamente tolto a loro, ma qualcosa di extra che mi dà l'azienda. Quindi se io porto in attività un amico che è veramente ambizioso, che ha tante conoscenze, che ha tanta voglia di fare, qualcuno veramente in gamba e questa persona nel tempo riesce a creare una squadra grande di consumo e di promozione di questi prodotti, io guadagno tra il 10 e il 20% sulla sua rendita. Questo ci porta ovviamente ad aiutare le persone che portiamo in attività, a impegnarci per il loro successo. Perché anche se una persona ci supera e guadagna più di noi, perché no? Noi saremo contenti di averla aiutata, di averla portata al successo. Questo ovviamente ci, questo bonus ci incentiva ad andare a selezionare le persone con cui vogliamo lavorare e portarle al successo. Soprattutto io dico, non sappiamo mai chi è il prossimo milionario del caffè che andremo ad incontrare, quindi nel dubbio parliamo di Organo Gold a tutti, consigliamolo a tutti di provare questo caffè e condividiamo con tutti la possibilità di guadagno che ci offre l'azienda. La sesta forma di guadagno sono le royalty dei leader, ok? Non ci riguarda al momento, però la spiego ugualmente. Io guadagno dal 2 al 5% su che cosa? Su tutti i leader che creo all'interno della mia organizzazione. Ecco qui, le royalty dei leader. Io guadagno il 2% su tutti i nuovi zaffiri che sviluppo nella mia organizzazione e poi mano a mano che loro sviluppano altri zaffiri e guadagnerò il 3%, il 4%, il 5%. Questo è senza limiti di profondità. So che non è semplicissimo capire tutto, però cerco comunque di dare la visione del potenziale. Quindi se io sono qui e sono già diventato zaffiro e sviluppo un altro zaffiro a qualsiasi livello di profondità, per esempio questa persona, diventa il mio primo zaffiro. Lui guadagnerò il 2% della sua rendita. Lui poi svilupperà altri zaffiri in profondità e guadagnerò il 3% su di loro, poi il 4% e poi il 5%. Questo bonus ci incentiva ad aiutare tutti, a lavorare con tutti nella nostra organizzazione a qualsiasi livello di profondità senza abbandonare nessuno. Quindi chi ha voglia di fare troverà sempre qualcuno disposto ad aiutarlo perché il loro successo sarà anche il nostro successo. E la settima forma di guadagno è il 3%, la divisione del 3% del fatturato mondiale. Eccola qua, il bonus più ambito, la divisione del 3% del fatturato mondiale per tutte le persone che fanno carriera in organo gold, dal livello di rubino in su. I livelli di carriera sono zaffiro, rubino, quindi solamente dal secondo passo di carriera già accedo a questo bonus. Poi c'è lo smeraldo e il diamante. Quindi dal livello di rubino in poi, un rubino è una persona che muove 40.000 euro di prodotto in un mese, grazie ovviamente a tutta la sua organizzazione complessiva ovviamente di tutte le persone che fanno parte. Quindi chi accede al livello di qualifica di rubino ottiene questo bonus, la divisione del 3% del fatturato mondiale con tutti i leader di tutti i paesi, ovviamente. Questo è un altro bonus che incentiva il lavoro globale di squadra, quindi aiutare le persone di qualsiasi gruppo, di qualsiasi squadra in tutto il mondo a ovviamente partecipare a questo progetto perché un giorno divideremo ovviamente tutto il fatturato mondiale. Spero di essere riuscito in questo breve video a dare, a trasmettere quello che è il potenziale, quello che è il progetto, la visione di OrganoGold. Ti invito a contattare la persona che te l'ha mandato e magari anche contattare me, c'è la mia email dove ovviamente mi puoi scrivere e io sono sempre a disposizione per condividere con tutti quella che è l'opportunità che ci offre OrganoGold, soprattutto in un momento in cui le opzioni di business sono molto limitate, abbiamo in mano qualcosa di straordinario. Se vogliamo veramente metterci in gioco e fare qualcosa di più, uscire dalla nostra zona di comfort, questa secondo me è l'opportunità numero uno che c'è a livello mondiale. Ti ringrazio per ovviamente aver visto questo video e spero di vederti molto presto in squadra con noi. Ciao!